... tutti i posti così chiuderanno, come è naturale. Il circo degli animali non è uno spettacolo per persone civili, è uno spettacolo per persone che godono nel vedere altri esseri viventi, senzienti, costretti ad ubbidire, costretti a subire la dolenza ogni giorno e la prigionia. Per questo chiediamo a voi genitori di non portare i vostri figli a vedere uno spettacolo simile e se comunque lo fate, bambini, guardate negli occhi questi animali oggi e chiedetevi se le cose che fanno le farebbero se non fossero costrette dall'uomo che utilizza violenza, prigionia, digiuni, botte per costringerli a farlo. Questi sono animali selvatici che vogliono vivere liberi, non vogliono certo vivere le vite rinchiute in una gamba, assolutamente no. Quindi quanti di voi hanno un minimo di sensibilità verso il diritto ad esistere, lontani dal gioco umano e dalla bruttezza di questi luoghi? Dovrebbero ripensare la loro decisione di venire al circo o comunque evitare di tornarci in futuro? Questo è quello che vi chiediamo.